Ho visto un anonimo passante che è qui di spalle perché non vuole farsi riconoscere quindi avrà anche la voce contraffatta di nome lo chiameremo Kairus Signor Kairus, nome falso Cosa ci dice di questo torneo? Ma schifo Non è l'unica a dire questa cosa Soprattutto stasera Sopriamo, dobbiamo Daniela tu c'è questo? Sì Cosimo ci siamo in striscioli C'è una nonna C'è una fascia Vediamo anche qui il socio di Lex Luthor che non è Cosimo Bellone Lì Giuseppina Olivo Una lontana parente di una ragazza fidanzata con uno dell'associazione Non attaccare, non attaccare In cambio di farma Contro i forno ottavi E tanto per cambiare Federica che mancia Che saluta Che saluta Io mi ho attaccato alla rete con una cosa brutta